Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono qui a giocare a Hellsward in compagnia di... Ciao! Di una pallina, che... madò, che pallina monella che si, vero? Sei una pallina monella tu, non è giusto. Ma ce l'hai? Sempre con me ce l'hai? Io devo fare l'ingresso del tempio, tu? Ok, io. No, è che ce l'ho con te, guarda, da quanto tempo che non carico un video? Da un casino. Non lo faccio, non lo so. E di chi è la colpa? Questo è il mio. Brava, perché questa serie la sto facendo con te. E se tu non vuoi registrare... Fai zitto prima che ti schiaccio. Ah, mi schiaccio, sei grosso, una pallina, non sei una pallina. Ti leggo sulla faccia, se... Illustraci questo evento, intanto, anche. Ma io non lo so, questo evento. Madonna, da quanto è che non giochi? Allora, in pratica, ragazzi, come potete vedere, fra poco si attiveranno altri buff, oltre a quello della fatina. Tipo che le skill... Ah, tipo, ecco, si sono attivati. 3000 di esperienza. Guardate l'esperienza, ragazzi. 3000 di esperienza... Scusate, la mana. Ho sbagliato. La mana. Poi c'ho anche lo scudo de... Deion qua, eccolo qua. Cioè, guarda, la cosa della fatina dietro. L'esperienza che non ho capito quanto è aumentata. Vai, andiamo, amore. Solo 3000 di mana, bene. Eh, le skill che si ricaricano sempre, subito. Cioè, non... Non c'ho bisogno. Allora, se io tipo mi faccio... Ecco, ora c'ho 3000 di mana, praticamente. Ecco, sì. C'ho 3000 di mana. Mamma mia. Quindi io posso fare la skill non so quante volte volo. Cioè... Wow. È fantastico, amore. Che bello puoi spammare. Sì, ha voglia. In questo caso, sì. Non lo so immaginare gli add come spammino. Dopo con questo evento da 3000 di mana. Eh, ci devo provare. Ah? Ci devo provare con add. Che cosa c'è di provare? Ti devo provare contro gli add, semmai. Contro quelle persone più brutte. Sì. Oh. Va, te li voglio vedere contro. Oh, grazie. Ok, andiamo, vai. Comunque, a breve dovrebbe arrivare il ruso. Il 6. Poi non lo so quando state vedendo sto video. Non lo so neanche quando lo caricherò. No, io so che a luglio. Stiamo a luglio in quella registrazione, quindi dovrebbe... Ah? Il 6 luglio. Ah, il 6 luglio, eh. Non lo sapevo. Wow. Dovrebbe essere quello il giorno. Ah, e quindi Pupu, come manca. Il giorno. Eh, sì. Vabbè, non lo so. Io spero di caricarlo mentre... Cioè, subito questo video. Oh, muoviti. Sì, scusami, è che mi ero persa. Eh, mi eri persa. Ma bene o male, questo sì, è ingresso del tempio. Cioè, non è che... Io lo so che non è corridoio a spirale vecchio. Corridoio a spirale. Eh, quello vecchio ti permane anche, cioè... Però qua... In quello vecchio mi perdevo sempre. Come fai a perderti? Ma non è una strada, sei obbligata, sì. Adesso è una strada. Prima non ero... Vabbè, dovevi solo salire sopra prima. E io non lo sapevo all'inizio. E quante volte te l'ho detto? Mi perdevo lo stesso. E che cosa vuoi? Dai, andiamo. Tornado. Andiamo, che lag come la merda quel tornado. Don, non riesco a saltare, porco. Ecco, oh, oh. La tastiera sta andando. Stai, sta andando la tastiera. Vai! Ecco, non ce la fa più. Onda di spade. Ma quanto c'ho di mana? 1899. Che schifo. Che 2.299. Mamma mia. Eh, però si sale di esperienza, eh? No, sto vedendo la barretta che pian piano è spadita. Ma quante volte? Un po' la stessa skill faccio io, cioè... Però preferisco combattere attacchi fisici, così. Dai, andiamo, andiamo. Ci sei? Io stavo correndo con il tuo gambo. Sì, è normale, sei piccola piccola. Non me ne ho fatto un cazzo del video, ecco. Uccidimi già per l'ottistico, che devo fare nel 120 per classare. Bastardi. Dici che sto spammando? No, perché io? Onda di spade. Ogni tanto non dice onda shock, ogni tanto non dice onda di spade. Ok, è finito. Io sempre super no. Vai, che figo. Dai, facciamolo, 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 sì. Di quanto possiamo spammare. Dai, facciamolo, facciamolo. Però, anche se mi dà un po' la cosa, mo, che ho consumato tutta la mana. E poi, non, a questa serie dovrebbe essere solo delle epic, però noi facciamo un portale oscurità, fotte un cazzo. Lo so per salire di esperienza. Eh, che capita. Se capita, capita sempre, capita. Ecco perché. Che è? Niente, ti voglio premere le guanche. Perché mi vuoi premere? Le guanche. Perché? Perché sono morti. Dai, qua devo caricare la mana. Dai, questa scimmietta che cammina qua. Minchia, mo, sono senza mana. Se avessi saputo prima. Eh, ora mi devo ricordare. Carico sempre la mana, caricherò. Vieni a uccidere questi. Come se stai su Ereda. Uccidiamoli. Vai, super nuova. Non gli devo caricare la mana, ho fatto un cazzo. Ma la devo caricare prima tutta. Amo? Non ti sento parlare. Eh, parla, non ti sento parlare. Oh, sto bastardo. Dai! Vedo solo da un occhio. Aspetta, com'è? Cos'è? Vedo solo da un occhio. Perché non ti metti gli occhiali? No, non perché non ci vedo io. Ma perché ho la faccia schiacciata. Quindi ho un occhio di buccio. Perché c'hai la faccia schiacciata? Ma per favore, l'occhio è chiuso dalla guanica. Che vuole? Ma dai! Questo cannone è titanico qui. Non lo so, bastardo. Dai, perché non c'ho la mana carichissima. Dovrei morire apposta apposta. Per avere la mana carica carica. Dai! Minchia, come lagga la tua skill però, eh. Bella pesante. Guarda quanto è buffa. Allora, c'ho. Ogni 10 secondi verranno rigenerati gli HP. E la valità del tutto è come... Oh, no! Sai che ho perso tutta la mana per difenderti. Poi, nessun tempo di attesa per le skill. 3000 di mana. Poi, acquisizione della mana incrementata. Forza di attacco aumentata. Caratteristica, vabbè, sì. Qualche cosa per l'attacco. Stimite le varie. Ecco, dai, devi scaricare un po' di più la mana. Però la devo far caricare tutta e poi spammare. 1787 di mana. Io 1600. Aspetta, eh. Dai. Dai che faccio danno. Dai, vieni qua, vieni. Qua arriva, arrivo. È stato sconfitto il guardiano qua. Che bastardo. Dai che facciamo il culo a questo. Muori, 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 muori. Dai, 2000 di mana, mamma mia. No, devo arrivare a 3000, ho fatto un cazzo. Questa bottiglia della mana che tipo non fa un cazzo. Io perdo mana per difendermi. Faffanculo. Faffanculo. Dai. Dai che devo attaccare. Non capisco niente. Tu primi tu. Aspetta, tutto l'abboso. E come fa l'aggara? Allora. Non sai che fa l'abbiamo. Ma non faccio niente un cazzo di danno questo qui, cioè. Onda di spade, onda di spade. Onda shock, onda di spade. Che bella, eh. Dai. Non la posso fare più, basta. Finito. E non ho fatto un cazzo, cioè ho fatto solo due barre. Faffanculo. Ce lo facevo prima a piedi. Dai che mo' si carica la mana. Dai, rimieni vicino. Che mi si carica la mana, così. Così che mo' l'ammazza. Quello. E si carica la mana. Dai, sempre super nuva. Vai. In quanto è forte quella super nuva, però, eh. Eh, lo fai. Eh, forte proprio. Onda shock. Dai. Dai che non ci vuole un cazzo a battere la stessa cosa. Ma è la prima volta che facciamo il portale dell'oscurità con questi personaggi? Sì, perché siamo arrivati a questa vita. Eh sì, è vero. Oddio, il bastardo. Nooo, il bastardo. Muori. Dillo, dillo. Fai le buce. Muori. Poi. E poi aspetta, come è? Palla di fuoco nero. Esplodi. Esplodi. Ia, 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 ia. Muori. Madonna, non ce l'ho più qua. Vai, spacca tutto. Madonna, aspetta, fammi lontano un attimo. Che qua devo prendere aria. No, la vita ce l'ho sempre. L'HP ce l'ho, però la mana, mamma mia, come si consuma. Maledetto. Stronzo. Vorrei morire per avere 3000 di mana. Pure io. Voglio morire. No, io vado a colpire il portale. Per quel caso. Anche se dovrei colpire quell'altro così. Ecco, il nostro amostro è morto. Ho fatto un culo. Sì, non gli faccio niente di danno a questo. Perché? No, bastardo. Canone titanico, mica, ho finito la mana. Dai, ma mi metto le bottiglie della mana a posto a po'. Tu devi mettere la mana a quella che fa 100% di mana. Quale bottiglie di mettere? Ti vuoi ogni quale posto di 100% di mana? Oh, non ti preoccupare. Eh no, che è quello che ho vero. Portale, non ce l'abbiamo. Non è portale, di con generale. Ce le ho, ti preoccupare. Sembra di incazzare. Perché di incazzo? Non mi sono incazzati. No. Mori. Guarda. Io c'ho la fatina da dietro. Che bello, mi carica. Ma tu c'è una fatina. Ma che sei tu? Ma perché mi fa la linguaccia? Perché mi va. No. Non ti devi fare la linguaccia. Non ti permesso. Ah, io boppo. No, chi sei tu? Mi sono fidanzata. Ah, la mia fidanzata sei. Ah, la mia ragazza, sì. Novità. Vai. Dai, distruggi tutto. Vieni qua. Spacca tutto. Vai, vai. Spam, spam, spam. Vai. Tanto è finito. È finito. Andiamo a Berlino, Peppe. E squasciamo tutto. Facci i problemi hai? È normale, stiamo spaccando qua. Tutti i trucchi siano spaccando. Supernova. Tipante. Cos'è che dice? Supernova? Pante. Gigante? Non lo so. Tipante. Ah, tipante. Sti, con la stu. Ah, stipante. Ma perché dice stipante? Non lo so, le cose strane proprio. Non l'ho mai capito. Non lo so. Dovrebbe essere gigante a una cosa del zener, non stipante. Oh, le cose strane. Mantieni, gruppo, mantieni, gruppo. Minchia, quanti minuti abbiamo perso per sto portale? Sei minuti, ma faccio... Mi stai salendo sulla faccia? Sì, che bello. No, mi fai buo. Non io salendo sulla tua faccia, ma... Perché sulla mia faccia? Perché la faccia è bella. No, ma che cosa dici? Potresti incendi, grazie. Sei zitto. Ah, non hai finito la questa. Ok, che l'ho terminata, per questo non ti ho accettato subito. Eh, come che cazzo ne sai. Tu vuoi lasciare parlare del coso deficiente, va? Rento. Vai che c'è il buff della velocità. E' questo. E' il coglione, che cosa. Che hai detto? Non si capisce, non si capisce quello che mi fai incazzare e basta, che hai detto. Niente, niente. Ma ve lo dici, dai! Ma... Che detto? Ho fatto rima corrento. Che cos'è? Mento. Beh? Niente, ho fatto rima. No, non ho capito, che me la devi spiegare. Che faccio, che cogliona che sono! E non c'era niente da ridere. Vabbè, maledetto prima, però. Cioè, è fastidio che non dicevo. Ma fate niente da ridere. Sì, va bene, va bene, hai ragione. C'è un nuovo titanico. No, non di nuovo. Ragazzi, come potete vedere, la nostra cara, la nostra cara Alice, ci ha lasciati. È morta. Addio. Mi sono piacere. L'attendiamo qui. Allora, ti ho atteso per non so quanto. Cosa è successo? È crashato il sistema. È crashata, ma crasherà pure lei così. Che laggo come una merda. Possiamo fare il dungeon? Sì, sì. Brava. Bravissima. Brava, brava. Yeeey. Come è fatto a crashare il sistema? Che c'è un computer di merda, cioè. Esatto. E non posso stare semplice. Ma già lo sai perché lo chiedi e lo guarda? No, no, è giusto per dire. Va, guarda come stai laggando, oddio. Oh, che schifo. Che è? Dio, che schifo. Grazie. Che visto? Non tu. Amore, schiacciolo. Che cos'è? Un ragno. Ma vaffanculo, va. Ma che schifo. Ma lascialo stare, forello. Ma che schifo. Ma lascialo stare, veramente, non ho fatto niente. Mi fanno schifo. Ma dai, ma piccolino, eh. I grani fucciosi. No, quello è l'unico. Non lo schiaccio, io mi dispiace. Lo prendo, lo faccio volare. No, no, no. Mi dispiace. Ma torna, torna alla risposta, poi. Perché dovrebbe tornare apposta apposta? Perché sono innamorati alla mia stanza, Ragni? No, sono innamorati di te. Ci provano con te. Che schifo. Eh, madonna mia. Io non posso stare ogni volta che tu devi crashare. Devo crashare, cazzifuogli ogni volta. Beh, devi fare i video, devi fare i video. Non mi compite. Non mi compite. Fatti in generale, devi fare il video ogni volta. Non posso registrare, non voglio registrare. Sono stanca, bla 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 bla. Poi mi viene a direi, voglio registrare, sì. E poi mi sta zitta. Io non so che cazzo di serie fare. Voglio fare qualche altra cosa. Perché voi la gente mi chiede, ma se non è il suor porti sul canale? E io rispondo per ora sì. Fai... Boh. Boh, non lo so. Perché io tipo, boh. Dovrei comprare appunto apposta apposta un gioco. Però pure deve essere bello. E deve intrattenere. Un gioco che tutti fanno, perché non è mi chiede. Eh, ma non è che mi dispiace. Cioè, mi dà fastidio un pochettino, però. Oh, quale è già ve l'otteso? Siamo compiuta. Mh? Una missione compiuta. Eh, pure io. Però io ho da fare cosa? La via del mestru di sale. Sai io che punto sono, vero? No. Arci ma covargo. Eh, appunto, lo sto continuando a fare. Perché noi dobbiamo classare noi due, ecco perché. Abbiamo voglia qua, uno su quaranta ancora. Uno su quaranta. Noi camminiamo, dai. Dai. Ma che cazzo? Oddio. Cioè, incredibile. Dai, uccidere, 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 uccidere. Morte, morte, morte. Carica la mano. Grazie che mi hai difeso, anche se mi hai colpito lo stesso. Io ti difendo sempre, amore. Eh, è vero. Sì. Tu te ne scoppi con la coda in mezzo alle gambe, stai giù. Perché che ho la coda in mezzo alle gambe? Perché c'è un cane. I cani, no. Ieri ho visto un cane col pannolino. No, sì, era stato una femmina. No, no, sì, era femmina, però baiava come una merda, baiava. Cioè, bau, 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 bau. No, no, perché in pratica si scorciavano a scenderlo a farlo cagare. Perché era in calore. Vabbè, in pratica faceva bau, 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 bau. Pannolini, per quello ce l'ha a metà. Hai rotto il cazzo, tu hai il pannolino. Carino. Mettitelo il tuo il pannolino. No, te ti devo mettere il pannolino. Perché mi devi mettere il pannolino. Muoti, bimbo. No, non sono un bimbo. Col pannolone. Sì. Il pannolino, bau, 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 bau. Mica, abbiamo battuto prima, adesso. Abbiamo battuto subito adesso che prima. Eh, sì, sempre. Ma lo vorresti fare? Però, no, no, dipende a quanto viene il video, poi. Va, facciamolo, 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 facciamolo. Tanto esce sempre, ormai. Sì, ma che cliccarò chi, se no? Ecco, niente. Ho cliccato, ok, taci. No. Che è? Che è successo? Ho visto queste accorciature qua? Sto stirandoti po' cane, scuola. E tu sei un cane? Sei una canna, tu? Non sei una canna, tu? Non ti dico che cos'è una canna, perché potrebbe risultare attentivo. Ah, ok. Dai, tu sei una canna. Taci. Chi taci? Perfetto. Ma perché sono tutto più, la perdo vita a cazzo, se dico io. Perché sei un coglione. No, non sono un coglione. Sì, mi metteremo la palla. No, non sono un monopalla, ancora no. Un tripalla. Un tripalla, io so tre palle. Minchia c'è una gelateria nella mia città, che si chiamava gelateria tre palle. Può è chiusa. Vuol dire che il proprietario ha... Aveva tre palle, sì. Tre corponi. E' un... Di una canna che si doveva dire una cosa, di due segreti, di che cosa, ho tre palle. Eh, sì, sì. Oppure ho due peni. Questo è sempre brutto a scoprire. Ma come fai a non vedere che c'è un altro pene che esce? Chi è lei? Chi l'ha detto che io tu l'ho visto? Ma tu lo devi dire che l'hai visto io. Perché tanto l'hai visto, veramente, cioè... Non è che tipo dopo due anni, così... Sì, sì. Ma tu secondo me me ne nascondi un altro. Se ne nascondi, dove la nascondo? Ma che cazzo ne so? La nascondi? C'è la prende avanti a scatola in culo, secondo me. Ma che è un pagino brutto? No, veramente. Però fa ridere. Cosa fa ridere? Che ne vai. C'è un cazzo tutto l'altro cazzo. Dai, che cosa? Che brutta cosa. E' quattro palle, di conseguenza. Sì. Tre palle. Quattro? No, una c'è un coglione. Tanto monopalla? Eh, sì. Tanto vale averli tutti due buoni, no? Vabbè, come va, che non possiamo fare. Per mo' è così. Tre cambierci. Altro che roba tre. Non è il mio figlio? Ti diverti, finisci con un insieme a un altro, eh. Uno davanti e uno dietro, poco. Appunto. E che brutta, pensate, eh. Tu ci ridici, scherzo. E poi se ne fa un altro, eh. E così, non è sempre... Va bene. Mi faccio il trapianto. Nooo. Il trapianto di cazzo. Le cose strane, proprio. Ridi, ridi. Oddio, santo. Ridi, ridi. Cazzo, stai ridendo. Ma no, minchia. Mi sto cercando di immaginare la scena. Tu ti abbassi i passaroni, ti abbassi le mutande. Daiiii. Gisù, con il colpo magnitico, ma che cazzo? Sì, 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 sì. Ciappa, tu me l'abbassi, no? Che tu me l'abbassi? Sei zitto che tu vai a battere per strada. Sì, vado a fare la puttana, vado a fare. Sono una zocco, là sono. Ah, si fa pagare pure tanto. Sono una peccora. Mi metterti a peccora. Mi metti a peccora. Sì. Ah, sai che sto a busta, no? Dì, dì, che vuoi? Tu mi metti a peccora, ti devi far scoprire dei maschi. Perché ti devi scoprire le femmie e ti metti a peccora. E vabbè. Oh, zio. I peccati, eh, i peccati. C'è una sorpresa femminile al posto. Che c'è? Come è scusa? C'è che hai una seconda sorpresa femminile al posto del pacco? Ho la figa del curo. Ho la figa nel culo. Brutta visione. Ma dai. E dito, tutte le persone ci credono veramente? Ah, veramente? Scopriamo. Ho la figa nel culo. Che cosa brutta. No, per favore, non fa pensare, va. Peggio del ragno che mi sta fiscando da un pacco. Ancora? Che cosa vuole quel ragno, innamorato di te? Eh, direi che sei fidanzata. Per il tuo, che cazzo. Eh, anche se sei fidanzata, un po' cipollone. Sì, guarda. Sì, guarda. È una zoccola, sì. Non lo vai a dire a nessuno che sei fidanzata. Sei dritto, suca palle. Suca palle. Ah, di solito suca minghie no. Meglio suca palle. Eh, c'è non piace tutte le palle. No, perché ti faccio male. Eh, c'ho le palle sensibili. Poi tu ti la mengi, non mi fai proprio. Eh, c'ho le palle sensibili. Non so se me le poste. Che c'è? Sai quanto cazzo me le poste? No, eh, minchia. Non li vuoi bene. Se ti voglio fare male, ti faccio male. Certo, se fai danno non solleva nessuno, è gimecchiata al centro di coglioni. Sì, sì, vuole provvedere che non piangi. Piango cosa. Piangi che mi dà solo, non pianto. Ah? Piango che travorrezzo donne e di conseguenza diventerei rettico. È stronza. Scusate, sono una stronza, sei. Sei detto, va, prima che vengo, ti tappo la bocca a sondubbaccio. Non devi. Ah, non te? Non devo? Non devi. Te l'hai presa a calci? No. Guarda come corre. Mi chiamo al goppo. È finita, perché non fassi una ragione? Beh, saluta il video che è già in tanti. Ciao, esserucci monopalla. Non hanno monopalle i miei iscritti. Eserucci normale. Dai, ragazzi, per questo video è tutto. Grazie per la situazione. E spero che il video vi sia appiaciuto. Commentate il video, scrivetemi qualche puttanata. Cosa ne pensate delle monopalle? Dei doppi gatti e della figa del culo. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, 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 ciao.